Erdogan ha votato a Istanbul. Il presidente turco al governo da 20 anni si gioca il futuro nelle elezioni parlamentari di questa domenica. Compresi i residenti all'estero sono oltre 64 milioni turchi chiamate ad eleggere, i 600 deputati della Grande Assemblea Nazionale e il nuovo presidente della Turchia. I sondaggi danno in vantaggio di poco Kemal Chilice Daroglu, leader del Partito Popolare Repubblicano, in corsa con Erdogan per ottenere al primo turno più del 50% dei voti per evitare il ballottaggio tra due settimane. He also answered that he, in that case, that he will peacefully step down, but he also said he did not expect such a thing to happen. Official results are expected later in the evening.